Musica Sergio Filipponi, nuovo direttore sportivo del Campobasso, direttore lei è in città da qualche giorno, innanzitutto le chiedo che impressione le ha fatto la città, questa società nel complesso in queste prime ore? Beh, ottima, direi ottima perché comunque da parte della proprietà ho visto una grande disponibilità e il presidente e il vicepresidente sono sempre disponibili e mi dicono sempre, qualsiasi cosa siamo qua, questo al di là del calcio per un dirigente è fondamentale, sentire il supporto della proprietà e quindi da questo punto di vista direi grande, grande attenzione e in città si sente proprio un'atmosfera, si respira calcio, c'è una fame di calcio in questa città importante, quindi diciamo che gli ingredienti iniziali sono ottimali. Direttore, sin da subito operativo, soprattutto sui campi di allenamento, ha già incontrato i ragazzi, ha avuto modo di elaborare un po' una prima panoramica del gruppo? Sì, ho parlato alla squadra però sabato appena sono arrivato chiedendogli poche cose, quella soprattutto di impegnarsi dell'educazione, del rispetto delle regole che per me vengono prima dei valori tecnici e poi con qualche giocatore ho parlato, con qualche sia over che qualche giovane e poi piano piano avremo modo di conoscersi però ecco, sì questo è quello che farò anche nei prossimi giorni e poi aspettiamo sempre la domenica e durante la settimana e la domenica le risposte che danno loro, che poi mi fanno capire e decidere per la permanenza o meno di un ragazzo qui a Campobasso perché per me stare a Campobasso è un privilegio e lo devono essere e deve essere anche per loro. Direttore, il campionato è davvero molto molto equilibrato quest'anno, la proprietà insomma non si è mai nascosta su quelli che sono gli obiettivi stagionali, come raggiungerli, cosa bisogna fare per raggiungere questi risultati? Allora la D è un campionato dove 4 giocatori su 11 sono giovani, quindi è un campionato dove bisogna correre, è un campionato dove bisogna fare gruppo, è un campionato dove bisogna fare vita seria è un campionato dove comunque tutte le partite sono difficili perché comunque andiamo a giocare in campi dove ti aspettano, quindi raddoppieranno le forze quindi da parte nostra l'attenzione, l'allenarsi bene, fare la vita d'atleta diventa determinante, quindi questi sono gli ingredienti, la corsa, stare bene fisicamente, fare vita buona sono componenti che faranno la differenza, ovviamente poi i giocatori di qualità ci faranno fare il salto per far vincere le partite. Ciao